Bentornati amici di Abitivo News con una nuova puntata di due quattro ruote e passioni motori torniamo a parlare delle due ruote di velocità e lo facciamo insieme a Guglielmo Tarizzo Bulli ciao 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 benvenuto volevo fare gare in salita però una domenica sono andato a provare la strada mi sono scantato mi sono rotto a testa a piedi e posso essere felice di quello che ho fatto anche perché poi sono deciso di trasformare questa passione che avevo delle gare nel lavoro che faccio adesso che è un aiuto tra gli altri